Torna Piemonte Movie G. Local Film Festival, la rassegna annuale dedicata al cinema piemontese dall'8 al 12 marzo al Cinema Massimo in Via Verdi. Tanti sono gli argomenti toccati in questa sedicesima edizione. Innanzitutto è un viaggio che parte con l'anteprima regionale del documentario Nina Nanna Prigioniera di Rossella Schillaci, per poi passare documentari e cortometraggi in concorso nella sezione Panoramica Doc e Spazio Piemonte. Quest'edizione è anche occasione per omaggiare due autori che hanno fatto la storia del nostro cinema, il registra torinese Corrado Farina e Carlo Ausino di Torino Violenta, per arrivare infine alla chiusura con il lungometraggio Babylon Sisters di Gigi Roccati. Il Piemonte è come sempre il filo conduttore del festival. La sezione Competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte, dedicate rispettivamente a documentari e cortometraggi, sono il cuore della manifestazione e anche quest'anno hanno chiamato a raccolta quasi 150 lavori realizzati nel 2016. Le sezioni Competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte, dedicate rispettivamente ai documentari e cortometraggi, sono il cuore della manifestazione e anche quest'anno hanno chiamato a raccolta quasi 150 lavori realizzati nel 2016, da registri e videomaker della regione, irrinunciabili per il G-Local Film Festival, i momenti in cui ricordare personaggi fondamentali che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva del cinema piemontese o riscoprire autori che hanno lavorato fuori dai circuiti più commerciali. In programma, giovedì 9 marzo, l'omaggio è il regista Carlo Ausino, che quest'anno festeggerà i 40 anni dall'uscita del suo lavoro Torino Violenta. Ausino sarà ospite della serata dedicata alla sua pellicola, che è anche fulcro della rassegna dedicata all'intero genere Guardia e Ladri e Poliziottesco all'italiana. Al regista e sceneggiatore torinese scomparso lo scorso anno con Rado Farina, il G-Local dedicherà l'11 marzo una proiezione speciale del suo primo lungometraggio. Spazio anche momenti di confronto e formazione per professionisti e giovani. Infatti, la masterclass di scrittura per cinema e tv, tenuta dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone, si rivolge proprio ai giovani professionisti del cinema.